L'Udinese è batte in Rimini ed è campione d'inverno, purtroppo lo sciopero nella sede di Milano attraverso la quale passano le nostre linee di servizio non ci ha permesso di ricevere il filmato sulla partita della rivelazione della Serie B, appunto l'Udinese. Abbiamo però le reti di Cagliari-Brescia e ve le mostriamo subito. Centro di Quagliozzi, testa di Casagrande, mezza girata di Gattelli ed è uno per il Cagliari. Errore di Canestrari, intervento di guida ed il Brescia fa uno a uno. Punizione di Bruniera per Bellini, Granbotta ed esultanza Cagliaritana, che si spegne a metà ripresa per questo tiro di Podavini che segna il definitivo pareggio bresciano. Il Cagliari è comunque sempre imbattuto ed i punti dalle quarti in classifica sono sempre tanti.